Da alcuni giorni al Parco Dubini vige un divieto di accesso temporaneo al pubblico per problemi tecnici. Nonostante il divieto, le persone, scavalcando la barra d'ingresso, riescano ad entrare al parco svolgendo le proprie attività fisiche. Per capire i problemi tecnici del parco e dunque la sua temporanea chiusura, abbiamo provato a contattare la dirigenza dell'ASP di Caltanissetta, di cui aspettiamo una loro risposta.